Un abito nero a tubino longhette, stile semplice, elegante e chic. Il trucco è leggero, Letizia Castano non ha bisogno di stupire, la sua bellezza parla da sola. La modella e attrice è la protagonista di Una donna per amica, il nuovo film di Giovanni Veronesi, in cui recita al fianco di Fabio De Luigi. Alla premier romana, la francesina, posato davanti agli obiettivi e telecamere insieme al resto del cast, in cui spiccano le presenze di Valeria Solarino, compagna di Veronesi, arrivata con indosso un outfit a dir poco eccentrico, forse perfetto per il periodo carnevalesco. Virginia Raffaele, Adriano Giannini, figlio del mitico...